Finale nazionale del Brodetto al ristorante al vecchio teatro di Ortona con l'unione dei due mari, così come è stato detto durante l'incontro, tre ristoranti della fascia adriatica e tre ristoranti della fascia tirrenica. Primo, secondo e terzo posto alla fascia adriatica, quindi cosa vuol dire? Lo chiedo al presidente di giuria, al vicepresidente onorario dell'Accademia Italiana della Cucina Mimo D'Alessio. Primo posto per il Molise, secondo posto per l'Abruzzo, terzo posto delle barche. Che cosa vuol dire? Che il Brodetto migliore è quello che si prova, si gusta qui dalle nostre parti? Probabilmente è stato un caso, perché il Brodetto è un piatto tipico di tutti e due i mari. È chiaro che probabilmente ha inciso molto il fatto che forse i nostri, dell'Adriatico, questo piatto lo propongono più spesso ai loro clienti e magari sono più allenati a preparare un piatto e a renderlo migliore di volta in volta. Sicuramente comunque tutti i Brodetto presentati sono stati eccellenti e di gran gusto. Ecco, anche i ristoranti che hanno rappresentato la fascia tirrenica hanno espresso degli elaborati d'eccellenza, di grande lignaggio. Ad iniziare dal ristorante Villa Marta di Roma per proseguire con il ristorante Campano, il ristorante di Napoli che arrivava da Napoli, il ristorante Bianco, il ristorante Le Volte di Livorno per la Toscana, degli ottimi elaborati. E' così, a centrale, probabilmente questa domanda si collega alla prima, perché i ristoranti della fascia tirrenica hanno presentato dei Brodetti un po' più elaborati, più innovativi e quindi probabilmente loro già stanno facendo un percorso diverso. I Brodetti dell'Adriatico sono stati un po' più legati alla tradizione, quindi forse la giuria ha gradito questo aspetto.